Amici Fandallenatori bentornati da Carmi Special, siamo con 7 indizi per la vostra assa del Fandacalcio sono andato ad analizzare alcuni giocatori in questo precampionato, in questi giorni per capirne meglio il loro valore Fandacalcistico alcuni di questi li abbiamo già trattati nel vi consiglio al Fandacalcio il format che tanto amate però volevo aggiornare alcune cose che magari sono andato ad analizzare in questi giorni poi ovviamente vi ricordo, ditemi la vostra opinione nei commenti e mi raccomando utilizzate sempre il tool di Fandalab che attenzione non si sostituisce a voi magari come può fare il solito algoritmo che va di moda ultimamente ma in realtà vi accompagna proprio con comodità per farvi da supporto all'asta userete sempre le vostre analisi, le vostre sensazioni e i vostri obiettivi che potrete appunto evidenziare nell'app di Fandalab e potrete quindi gestire meglio semplicemente la vostra asta quindi va accompagna con comodità quindi perché non soffrirne utilizzatela mi raccomando magari utilizzatela insieme a tutti i vostri partecipanti io lo faccio con i miei amici senza problemi ragazzi ci siamo divertiti ed è stata molto molto più comoda senza stress, veramente comodissima in più se volete anche sfidare me e tanti altri capi palestra su Fandalab Manager iniziate questa nuova carriera Fandacalcistica su questo gioco ci divertiremo tanto è un vero e proprio manageriale è quello che veramente vi è capito come un manageriale quindi vediamo un po' chi partirà subito bene in questa nuova carriera andiamo a vedere i nomi che vi ho attenzionato come detto poi se volete fare anche un supporto alla piattaforma ragazzi lo staff ci lavora giorno e notte con come dire originalità per tutti gli strumenti senza bisogno di scopiazzare altre piattaforme e poi addirittura sminuirle quindi supportate questo progetto se vi va se credete appunto sia un progetto valido ma penso che parli da solo a livello di qualità andiamo a vedere i nomi che vi ho selezionato partiamo da Okoye Okoye ragazzi è uno dei portieri low cost che potrebbe essere diciamo il nuovo giocatore da modificatore a basso costo ok lui costa intorno all'1% o anche meno in alcune aste quindi non ci sono particolari rialzi su di lui si ingastra in alcuni abbinamenti non in tantissimi ma in alcuni si e potrebbe non avere concorrenza quest'anno quindi dovrebbe comunque giocarle in teoria tutte in questo pregambionato ho anche fatto qualche buonissima qualche buona parata molto interessante a livello proprio di potenziale diciamo voto fantacalcistico quindi potrebbe alzare un po' la sua media voto che l'anno scorso non è stata male 17 però penso che possa alzarla ulteriormente quindi ha preso tante sufficienze solo due insufficienze però secondo me qualche 6,5 e 7 in più lui vedete ha preso diversi 7 a livello di media voto e diversi 6 secondo me ci sarà un buon mix quest'anno con diversi 6,5 questo è quello che mi aspetto da parte sua occhio all'udinese ragazzi non la sottovalutiamo quest'anno potrebbe essere una piace con le sorpresa ne parliamo anche tra poco perché c'è un altro giocatore passiamo a Gaspar di lui ne ho parlato quando ho fatto l'analisi di tutte le fasce e vi avevo detto ragazzi è un giocatore molto alto ben strutturato fisicamente che può essere pericoloso su pallina attiva e lo confermo ragazzi perché ha già segnato in precampionato aveva fatto anche forse un altro gol e annullato insomma è un giocatore che a livello fisico è veramente può essere devastante magari sì qualche errore difensivo potrà magari farlo potrà prendere delle ammunizioni l'anno scorso abbiamo preso ben 9 però ragazzi a me convince sempre di più a livello proprio offensivo secondo me vi può regalare quei più 3 a sorpresa che potrebbero farvi vincere delle partite anche complicate delle sfide complicate insomma non dico che sarà un crack della stagione ma ha quel potenziale lì attenzione e confermo questa sensazione che avevo già negli scorsi giorni passiamo al prossimo nome ed è un centrocampista è Messias vi porto lui perché l'ho preso sia al mantra l'ho preso al mantra perché al mantra ragazzi c'è anche la C è CW e quindi lì secondo me è un vero e proprio bug perché puoi schierarlo come C e potrebbe giocare molto offensivo lui il suo problema qual è? l'integrità fisica ragazzi cioè ha fatto più presenza in questi anni in infermeria che sul campo vediamo se quest'anno riesce ad avere un po' di costanza almeno da quel punto di vista però a livello di prestazioni può portare sempre dei buoni voti l'anno scorso comunque l'82% delle presenze ha preso almeno la sufficienza il 41% delle prestazioni dal 6,5% a salire quindi è uno che è abbastanza funambolico che riesce a mettersi in mostra e tra l'altro anche segnato quindi adesso vi faccio vedere appunto la sua anche dichiarazione c'è anche la news appunto su Fandalab quindi potete anche leggere queste magari notizie anche la numero 10 sulle spalle insomma credo abbia una certa responsabilità che potrebbe renderlo protagonista nel nuovo Genoa il Genoa di quest'anno e tant'è che ieri un po' rosicato perché me lo sono fatto scappare a meno dell'1% e secondo me ancora è una buona cifra da poter scommettere su di lui ovviamente se comprate Messias dovete avere un reparto abbastanza coperto andiamo su e ha altra valida scommessa per il centrocampo in questo precambionato ha fatto molto bene sulla fascia è stato utilizzato in zona offensiva ora giustamente molti mi diano a carmi la Juventus dovrebbe comprare un esterno d'attacco sono assolutamente d'accordo però attenzione ad una cosa Tiago Motta l'anno scorso se vi ricordate panchinava anche un certo Orsolini panchinava giocatori importanti per dare spazio a giocatori che vedeva in forma e che vedeva davano qualcosa magari in più a volte non escludo che possa succedere anche questo con UEA visto che ha fatto un buon precambionato e che l'ha utilizzato molto si è dimostrato anche valido con velocità insomma non escludo che anche dovesse arrivare qualche nome forte comunque UEA anche a partita in corso o addirittura qualche partita a titolare possa giocarlo in un ruolo anche molto avanzato quindi occhio secondo me è uno slot scommessa soprattutto per le prime magari giornate ci può stare e poi magari decidiamo se tenerlo o svincolarlo a settembre ok ovviamente per chi è alas a settembre monitorate la situazione delle prime giornate però quello che potrebbe accadere è che il suo prezzo a quel punto possa salire qualora dovesse fare bene poi andiamo sugli attaccanti ho messo Tao Venn dell'Udinese di lui ne abbiamo parlato nella categoria scommessa per quanto riguarda vi consiglio al fantacalcio quel format che vi ho portato a fine luglio qui addirittura ci sono gli obiettivi cioè Tao Venn ragazzi ormai sta facendo dichiarazione su dichiarazione quest'estate e mi aspetto possa essere protagonista addirittura nella sfida di Coppa Italia ha giocato con la fascia da capitano ragazzi è vero che sta arrivando Sanchez però secondo me non sarà messo in disparte Tao Venn anzi sta proprio dimostrando qualità visioni di gioco scelte sempre oculate nel passaggio insomma secondo me sarà uno dei protagonisti di questa Udinese e sta andando a prezioni onesti al 3% a volte anche meno massimo 4% quindi raga tra i low cost è uno di quelli che mi piace di più e confermo la sensazione che va nel primo consiglio al Pantacalcio attenzione come detto ha fatto assist e goal praticamente nel senso sbaglio ha calciato il rigore perché ha segnato sul rigore poi ha fatto anche un assist mi pare per Lucca quindi insomma è in forma soprattutto mentalmente sta bene mentalmente e quindi potrebbe essere un nome tra i low cost più interessanti da andare a prendere a proposito di goal in questo pre-campionato parliamo anche di quello di piccoli piccoli ragazzi sarà alla punta del Cagliari e probabilmente sarà difficile schiodarlo da lì nel senso che è stato proprio preso per essere il titolare ora a me non fa impazzire tantissimo calcisticamente sono sincero cioè credo abbia tanto margine ancora di miglioramento e di crescita però oggettivamente se è la punta titolare del Cagliari di Nicola comunque le occasioni le può avere lui è molto alto e può segnare anche appunto spesso di testa quindi possono arrivare diversi palloni interessanti sia con gli esterni che magari proveranno spesso il cross i vari Zortea Ugello che sono praticamente sempre sollecitati da quel punto di vista sugli assist e potrebbero metterlo in condizione quindi di avere diverse occasioni ok durante le partite lui va anche a pochissimo al 3% 4% a volte anche meno sotto il 2% quindi lo prendete a poco tra i low cost e potrebbe essere una valida copertura innanzitutto e chissà magari quel diciamo dal nome da alternare al vostro terzo slot e che vi può dare magari qualche gioia se lo schierate nella giornata giusta ok quindi attenzione io non lo andrei a sottovalutare poi passiamo al prossimo nome l'ultimo è Moise Kane allora su di lui dobbiamo fare un piccolo aggiornamento perché perché tra l'altro qui c'è anche Pellisset che si espone su Kane ora un piccolo saluto a Sergione Pellisset ragazzi diciamo per noi che facciamo il pantacalcio da tanto fa venire un po' di bei ricordi per quanto riguarda Kane ovviamente ragazzi qual è il discorso per me potrebbe essere tranquillamente una trappola un po' un'esca come vi ho detto anche nel vi consiglio al pantacalcio oppure un crack cioè il suo potenziale è veramente veramente ampio può diventare un crack se voi lo pagate come giocatore sottovalutato cioè in alcune aste effettivamente sta andando a poco e se lo prendete a quel prezzo potreste fare un vero e proprio affare se invece lo pagate come se deve essere già proprio un crack potreste fare la fine di insola dell'anno scorso parliamoci chiaro ora l'analisi che ho fatto io osservandolo diciamo in questo precampionato in alcune partite è che lui possa avere un grosso margine di miglioramento non solo per quanto riguarda i gol fatti ma per quanto riguarda le prestazioni cioè quello che mi ha colpito più che altro è il modo in cui sta legando con i compagni di squadra e si sta mettendo al servizio della squadra anche facendo salire a volte gli esterni tipo dodo facendo inserire i compagni ecco se effettivamente migliora quell'aspetto lì e continua a trovarsi bene con i compagni potrebbe perlomeno aumentare quel discorso di costanza cioè fare un po' il rendimento per dire non è che deve fare per forza 15 gol e così via ma può avere quel rendimento di mix tra gol e assist e magari dei buoni voti che possono diciamo permettergli una media e fantamedia buona però attenzione che è molto difficile a cosa accade nel senso che lui ci ha abituato un po' a della discontinuità quindi quello che io in teoria mi aspetto è che lui faccia quella buona prestazione appunto dove si trova bene con i compagni e prenda quelle magari 7 più 1 8 non per forza magari con il gol però la giornata successiva magari gli abita l'occasione nitida la spreca non riesce a metterla dentro e si porta a casa il 5 quindi io ho lì diciamo la sensazione che possa avere quel tipo di rivendimento lì che poi alla fine magari la fantamedia possa essere discretamente buona ok però magari la gestione potrebbe non essere semplice qui però mi affido a voi e voglio capire la vostra sensazione perché effettivamente Ken è uno che divide molto perché può essere molto discontinuo però comunque gioca in una squadra che può essere molto offensiva e che può metterla in condizione di avere diverse occasioni da gol e quindi sprecarne qualcuna però poi riuscire a metterla dentro fatemi sapere la vostra perché è un giocatore che mi mette molto in difficoltà a livello di valutazione sono onesto e sincero tant'è che ve l'ho portato nell'esca e ve l'ho voluto riportare qui proprio per approfondire ancora un po' l'analisi e avere qualche indizio in più ok mi affido adesso a voi detto questo ragazzi io vi auguro buona preparazione ovviamente se avete fatto l'asta fatemi sapere un po' come è andata se vi sentite soddisfatti o meno poi ci vediamo domani tra l'altro con questa sera non ci sarà la live ma ci sarà la live domani sera per quanto riguarda l'asta mantra con gli abbonati e poi invece il 17 nel pomeriggio faremo una live pregiornata per un po' di consigli di scheramento di formazione un po' di pareri sulle partite ovviamente ci sarà anche il video il 16 mattina domani mattina ci sarà il video pregiornata quindi andremo ad analizzare un pochettino le probabili formazioni e cercheremo di capire un po' come potranno partire le squadre di serie A va bene detto questo un buono studio e alla prossima da Garmy ciao